Abbassa la Sara Cinesca del proprio negozio di biancheria all'interno di una galleria commerciale alle porte di Treviso, Flavia lo fa per protesta come tanti in Italia, ma lo fa soprattutto per scongiurare lo spettro di una chiusura definitiva. La grande distribuzione denuncia l'assenza di direttive precise da parte del governo sulla riapertura il sabato e la domenica. Siamo stati molto penalizzati, i contagi comunque continuano a scendere e non capiamo perché ancora abbiamo questo obbligo di chiusura il weekend, si parla sempre comunque delle giornate un po' più importanti della settimana ed è da quasi un anno ormai che andiamo avanti e diventa difficile. Queste chiusure del sabato e la domenica per noi sono deleterie perché fondamentalmente era il fulcro del lavoro il weekend e non facendoci mai riaprire per noi è un'ammazzata impressionante. Il calo del fatturato di quant'è? Ah beh, il calo del fatturato è del 70-80%. Un crollo confermato da tanti colleghi, soprattutto nell'abbigliamento. Se continuo così la situazione entro fine anno, comunque sfido chiunque qua dentro, comunque tanti chiudono. Eppure, sottolineano tutti, le entrate sono contingentate, le misure di precauzione massime, quanto ai ristori un altro tasto dolente, il sorriso è amaro. I ristori? No. Parliamone di aiuti, magari. Arriveranno, ti dicono, però arriveranno quando? Quando ormai, dopo non servono più. A fronte di, nel mio caso, una perdita di 198 mila euro di fatturato, mi sono arrivati 8 mila euro. 8 mila euro che mi sono stati nemmeno sufficienti a pagare gli arretrati dei dipendenti. Da qui l'appello all'esecutivo Draghi e un messaggio ai clienti. È tornato il momento di riaprire. E di accogliere i clienti. E di accogliere finalmente i nostri adorati clienti.